Volontariato in onda, una nuova puntata. Abbiamo il piacere di avere con noi Raffaella Fontanesi, direttore della sede di Piacenza di CSV Emilia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno Massimo e buongiorno a chi è in ascolto. Parliamo di questo importante progetto che si intitola Insieme è meglio lo sport per tutti. Di cosa si tratta? Sì, è un progetto di rete per promuovere lo sport inclusivo nel territorio piacentino ed ha ottenuto un finanziamento attraverso l'avviso sport di tutti inclusione che è un'iniziativa del Ministero per lo Sport e i giovani. È una proposta che è stata elaborata da una rete territoriale di associazioni sportive e anche altri enti del terzo settore che hanno deciso di mettere insieme le proprie esperienze, le proprie competenze, proprio per rendere l'attività sportiva una parte fondamentale dello sviluppo e della crescita, in questo caso dei giovani con minore opportunità. Questa rete è fatta dalle associazioni sportive Rugby Lions, che è anche la capofila di tutta questa accordata da Spesporgo Trebbia, dal Centro Marziali Arti Sakura, dal Circolo San Martino, Sport & Games, società sportive dilettantistica, per cui dai nomi delle società si capisce già che gli sport sono il rugby, il calcio, il judo, la capoera e la scherma. E dagli altri enti del terzo settore a supporto, che sono noi, CSV Emilia, ma le associazioni di disabili a SOF e Piacenza in Blu, che hanno un ruolo fondamentale nel permettere la partecipazione dei ragazzi disabili alle attività sportive, Caritas e Avis e la cooperativa sociale Cairos Servizi Educativi, proprio perché c'è anche la parte dei minori anche con minori opportunità economiche o con un disagio sociale. Ci tengo anche a precisare questo, che ci sono tante altre realtà sportive sul nostro territorio, attente al tema dell'inclusione, oltre a quelle che ho citato nel progetto, ma questa è una prima sperimentazione che abbiamo, di questo progetto collettivo per partecipare a questo bando, serve anche proprio per mettere insieme delle buone prassi che poi potranno anche essere replicabili e descendibili anche ad altre progettazioni, anche con altre società sportive. Però siamo partiti da qui e CSV Emilia le ha supportate in tutta la fase di progettazione e sta collaborando proprio anche per mantenere il coordinamento di tutta questa attività. Io volevo partire proprio dal titolo, insieme è meglio lo sport per tutti, perché lo sport è importante proprio come attività fisica, ma non solo, perché poi c'è l'aggregazione, che è altrettanto importante. Esatto, questo è proprio il tema centrale, perché è un tema aggregativo, è un tema anche di miglioramento delle competenze, di socializzazione dei giovani con minore opportunità, come anche ho citato le associazioni di disabili che partecipano a questa attività, proprio perché anche per la disabilità è un bel banco di prova lo sport, ma non soltanto per le loro capacità fisiche di coordinamento, ma per tutto il tema di socializzazione che permette lo sport al pari anche insieme ad altri ragazzi. Quindi c'è tutto un tema di coinvolgimento, di autostima e di inclusione. Quindi è importante sottolineare questo, che lo sport possiamo proprio elevarlo a strumento di inclusione. Il progetto è già partito? Sì, è partito a gennaio, perché appunto ha ottenuto questo finanziamento che ha permesso di avviare l'attività con l'inizio dell'anno, però dura due anni, quindi durerà tutto il 2024 e il 2025. In questo momento il progetto permette l'attività per una novantina di ragazzi appunto fra disabilità o minori opportunità. Attualmente abbiamo già più della metà di iscrizioni a tutte queste discipline sportive, per cui c'è ancora margine per poter aderire a questo progetto. Come fare per aderire proprio a questo interessante progetto? Allora, per aderire ci sono. Il riferimento principale è la SD, la società sportiva capofila, che è Rugby Lions in questo caso, per cui si può contattare la società sportiva tramite una mail, che è segreteria.chiocciola.rgbylions.it, ma si può anche chiamare il nostro centro di servizi, che come dicevo fa anche un po' di coordinamento e gli tiene un po' insieme queste attività, per cui telefonandoci allo 0523 30 61 20 possiamo dare tutte le informazioni per poter aderire, per poter partecipare al progetto. Grazie per essere stata con noi e per averci illustrato questo interessante progetto che unisce sport e aggregazione. Grazie a voi, grazie. Raffaella Fontanesi, direttore della sede di Piacenza di CSV Emilia, ospite di Volontariato in Onda. Il programma realizzato da Radiosound in collaborazione con CSV Emilia, centro servizi per il volontariato di Piacenza.